Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo mega video. Uno, Fabio. Giustin Tempo è una serie televisiva canadese del 2011. La sigla è bellissima. Emigratis è un programma televisivo italiano di intrattenimento, ideato e condotto dal duo comico Pio e Amedeo. La sigla è bellissima. Riusciremo a vedere in futuro il nuovo restyling completo di Blaze, Discovery Channel, Comedy Central, Crime Investigation. Forse. The Big Bang Theory è una sitcom statunitense trasmessa dal 2007 al 2019. La sigla è bellissima. Se Italia 2 chiudesse nel 4087? Succederebbe una super duper hyper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. 2, Christian. Sogno e Sondesto è stato un varietà musicale televisivo italiano andato in onda in prima serata su Rai 1 dall'11 gennaio 2014 al 6 febbraio 2016 con la conduzione di Massimo Ranieri. L'Unipol Arena, è uno dei maggiori impianti sportivi coperti polivalenti d'Italia, situato a Casalecchio di Reno nell'area della città metropolitana di Bologna. 3, Ciro. Abbiamo già fatto la storia di Hank, e il camion dei rifiuti. Che sarebbe la serie televisiva di Netflix del 2020. 4, Letizia. Se la sigla di TG1 avesse la sigla di Named Hat, Tune, la sigla di TG24 con quella di Grizi e Ileving, quella di SkyTG24 con quella di Marta e Dave, quella di TG2 con quella di LazyTown, quella di TG3 con quella di Odie e Maledetti Scarafaggi, e quella di Spartacus con quella di Paprika? No, perché tutto questo non ha senso. Se nascesse Mediaset Futuro e Mediaset 10? Forse forse, no. Davvero peccato per Sainz, ma congratulazioni a Leclerc, Verstappen ed Hamilton per l'altra gara. La Peugeot 9X8 è una supersportiva monoscocca chiusa. Ed è bellissima. LOL, è un format diffuso a livello internazionale attraverso la piattaforma su Amazon Prime Video. Sky News è un canale old news britannico edito dal gruppo Sky. Se le vacanze estive non finirebbero mai? No. Mai. 5, Alessandro. Se la sigla dell'anno che verrà avesse la clip di Simone. Forse forse, no. E 6, Tos 2. Da settembre sarà disponibile Grande Fratello VIP 7 su Canale 5, Italia 1, La 5, Mediaset Extra, Mediaset Infinity, e sul sito di Grande Fratello. E con il mega video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.